Giù il velo, con Sandro Gozzi e Derrick Josef Il tema del doping è ritornato, è ritornato di nuovo, è notizia di qualche giorno fa di Alberto Contador grande ciclista spagnolo che è stato trovato positivo in delle attività di controllo relative al doping Alessandro, siamo destinati a uno sport dopato per sempre? Per essere franchi direi di sì, poi per essere magari più morbidi o più diplomatici si può anche dire che si può tentare di cambiare la rotta non voglio negare questa possibilità anche più ottimistica che però sarebbe legata ad una sola soluzione quella di modificare tutta l'impostazione dello sport giovanile mettendo accanto ai bambini fino alla preadolescenza non degli allenatori specializzati nei singoli sport ma degli educatori polisportivi che insegnino loro lo sport in una maniera serena, formativa e poi solo dopo questa formazione generale e non ossessionata dalla specializzazione i ragazzi potranno scegliere ecco io sono convinto che con una formazione giovanile di questo genere i ragazzi arriverebbero allo sport con più antidoti e sarebbero meno abbindolabili con la prospettiva del doping un'educazione allo sport che dovrebbe cominciare nelle scuole per prevedere due categorie, gli amatori e quelli però che vogliono poi fare sport a livello professionista entrambe oggi sono categorie a rischio? sì, non c'è sostanzialmente differenza tra gli atleti di alto livello e i praticanti amatoriali i praticanti amatoriali scimmiottano quello che fanno gli atleti di alto livello sono anche più a rischio perché tra l'altro vedo che vanno sui siti web, trovano prodotti sulla rete non sono seguiti neppure nel doping come magari invece i sportivi professionisti lo sono quindi rischiano ancora di più per la loro salute rispetto ai professionisti che comunque non dovrebbero usare doping ma almeno sono seguiti sì, sostanzialmente è così, è chiaro, i praticanti amatoriali o i frequentatori delle palestre di bodybuilding che poi è un fenomeno analogo, fanno un po' da sé o addirittura a volte vengono consigliati nell'assunzione del doping da quegli stessi personaggi che lo vendono il doping che evidentemente sono interessati a venderne il più possibile quindi pensiamo alle posologie, già chi si dopa tende a superare nell'uso di certi farmaci le posologie tipiche di quel farmaco, le posologie dei malati intendo dire dopodiché se avvendertelo è colui stesso che poi ti consiglia quanto usarne probabilmente ti dirà di aumentare le dose